Allora, salve amici, oggi andremo a fare un piatto stellato e andiamo a fare un piatto molto difficile, anche davvero allora, vi presento subito il prodotto abbiamo un saikebon vediamo il contenuto logicamente, vedete, vedete com'è, è un ottimo prodotto vedete, cosa sembrano questi cosi, lasciamo perdere il meglio di qui allora, vai piano piano, perché se sbagli la ricetta buttiamo un piatto stellato momento di tensione qui basta sbagliare un qualcosa e buttiamo un piatto che costa 300 euro, credo vediamo già, aspetta, fai vedere, fai vedere com'è pronto vedete, è difficilista, scusate il rumore, abbiamo il lavapiatti fatto questo va subito chiuso, altrimenti perdiamo gli aromi, i sapori di questo piatto attenzione all'acqua bollente ecco, vedete, è il momento in cui lo chef sta assaggiando il prodotto scusate, sono rientrato per fare il video, vedete lo sta assaggiando o lo sta mangiando? lo stai mangiando? ottimo, very good aromi, aromi, vai stupendo adesso andiamo a mettere l'acqua nelle piante niente, purtroppo l'acqua è stata buttata e quindi niente, possiamo metterla nelle fragole vedete, qua stanno già crescendo bene, cari amici, alla prossima ciao, 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 ciao